500.000 euro per poter adeguare i depuratori e realizzare le condotte per il riuso delle acque e refluo ai fini agricoli e quasi 1.100.000 euro per progetti legati allo sviluppo territoriale, al Museo del Mare, al ripristino delle strade cittadine e degli istituti scolastici. Nel corso della seduta parlamentare sulle variazioni di bilancio, Gela raccoglie un discreto numero di fondi da impiegare nell'immediato grazie agli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle. Nello specifico per la città sono stati inseriti 200.000 euro per la realizzazione di interventi di manutenzione stradale e di implementazione della segnaletica delle vie cittadine, 200.000 euro per gli interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dei parchi gioco e delle aree verdi, oltre che delle fontane pubbliche, 200.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strutture sportive comunali con particolare riferimento alla situazione del Palacossiga, 200.000 euro per le opere di manutenzione a carattere d'urgenza degli istituti scolastici e altre 200.000 euro per le attività di promozione territoriale e turistica. 80.000 euro saranno invece destinati a coprire, come già annunciato in precedenza, il ripristino dell'impianto elettrico del Museo del Mare dopo il furto dei cavi di rame dei mesi scorsi. Proprio perché la città sta attraversando un momento delicato e difficile, dove ci sono delle emergenze da risolvere, in variazione di bilancio ostanziato delle somme che possono servire a risollevare la città e a risolvere alcune emergenze. Ha ostanziato un milione di euro, grazie ovviamente agli emendamenti del Movimento 5 Stelle, per la manutenzione degli impianti sportivi, per la manutenzione delle strade, della sicurezza stradare, per la manutenzione delle aree verdi e dei parchi, per la manutenzione degli impianti scolastici pubblici. In più 200.000 euro per la realizzazione dei eventi culturali e per la promozione turistica. Un ulteriore 80.000 euro sono stati stanziati per risolvere finalmente, in maniera definitiva, il contenzioso che c'è per quanto riguarda il Museo del Mare di Gela, affinché possa essere aperto entro il 2024. Il Movimento 5 Stelle ha infine ottenuto un aumento di 500.000 euro del Fondo regionale per la lotta alla siccità, che prevede tra l'altro la possibilità di adeguare i depuratori e realizzare le condotte per il riuso delle acque reflui ai fini agricoli. Mezzo milione che di certo non risolverà l'emergenza, ma che concretamente sarà utilizzato per gli impianti di gel elicata, che a causa della vetustata dei sistemi gettono in mare centinaia di migliaia di metri cubi all'anno di acque, che potrebbero essere tranquillamente riutilizzate per irrigare, opportunamente trattate, così come avviene nel resto del mondo.